Numerosi partecipanti al forum cittadino organizzato dal polo civico tenutosi nel fine settimana all'interno dei locali dell'istituto Testa Secca. L'intento è stato quello di mettere a confronto diversi soggetti politici disposti a confrontarsi sui programmi da proporre alla cittadinanza in vista delle prossime elezioni amministrative. È stata dunque una due giorni di intenso lavoro dove sono state trattate diverse tematiche a cui hanno preso parte il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, l'Associazione Caltanissetta Protagonisti, i Comitati di Quartiere e tante altre realtà civiche e associazionistiche. L'intento del forum, come ha detto lei, era quello di mettere attorno a un tavolo realtà politiche provenienti da diversi ambiti, quindi associazioni, movimenti civici, partiti tradizionalmente intesi, tutti coloro i quali si vogliono presentare nei confronti alla cittadinanza rappresentando appunto la voglia di fare politica. Queste realtà si sono per questi due giorni spogliati dalla loro casacca e hanno vestito i panni dell'umiltà venendo a confrontarsi per la prima volta, ritengo nella storia di Caltanissetta, perché non mi risulta che ci sia stato niente di simile, realtà provenienti da ambiti diversissimi di centro, di destra, di sinistra, politiche, non politiche e questo ritengo che sia stato un successo veramente su tutta la linea. Noi come Caltanissetta protagonista abbiamo aderito subito a questo forum perché lo ritenevamo uno strumento democratico molto importante e soprattutto l'occasione per farci conoscere, al di là degli steccati, politici e per dimostrare quello che noi avevamo fatto in ormai anni di lavoro con Caltanissetta protagonista e quindi abbiamo avuto la possibilità poi di confrontarci con gli altri. È stato un grande successo, un successo di democrazia, di partecipazione, in cui veramente abbiamo potuto constatare non soltanto che i nostri programmi e i nostri contenuti sono assolutamente validi, ma ci hanno dato anche un metro per capire gli altri gruppi e le altre formazioni come stessero agendo e quale obiettivo potevano avere attraverso quello che hanno prodotto. I risultati sono stati assolutamente soddisfacenti per noi. La condivisione dei progetti, dei programmi, delle idee, altro non comporta se non un percorso virtuoso che va sicuramente avviato, che va sicuramente potenziato e implementato. Quindi il Partito Democratico ha guardato con grande, grandissimo interesse a questo laboratorio di idee, a questo laboratorio di politica. È un'esperienza unica questo del forum, non sarò sicuramente l'unica a dirla, perché è la verità. Cinque anni fa una cosa di questa è inimmaginabile. Tutti ci confrontiamo sui programmi e naturalmente poi convergiamo sui programmi, sulla necessità di Caltanissetta. Questa è la cosa interessante. Però ora bisogna veramente fare un passo indietro, un passo avanti, bisogna concretare le cose che abbiamo detto. L'ideale sarebbe che tutte queste persone che hanno discusso, che hanno detto le stesse cose poi, addirittura le hanno sostenute con delle aggiunte, chiaramente si seggano e abbiano la forza di creare una squadra forte che vada veramente a gestire la città.